ben ritrovati amici di auto occasioni un'altra puntata insieme direttamente da luciano moto e con me ovviamente atos lo vera ciao atos lisa ben trovata ben trovati a tutti voi ricordiamo subito l'indirizzo via circo vallazione 49a casa al grasso e ricordiamo anche che l'ultima volta atto se abbiamo fatto un po un tour dello showroom più grande d'europa ed è veramente così si elisa ci voleva perché dal sito veramente magari si vede il migliaio di moto ma non non rende bene l'idea per cui il abbiamo appunto voluto far far vedere un po di più rispetto alle altre alle altre puntate e meritiamo davvero di essere visitati perché ci sono tantissimi padiglioni ognuno con il proprio segmento di moto e atos apremmo la puntata con una novità la z h2 se certo lisa attesissima il cavasacchi ormai ci abituate ai suoi motori il supercharged sono appunto le uniche moto in produzione adottate di compressore centrifugo per questo sovralimentate la naked da 200 cavalli nonostante la potenza davvero che può spaventare alcuni è una moto davvero versatile e facilissima da usare anche tutti i giorni con dei consumi bassissimi davvero da media di segmento quest'anno arrivata appunto attesissima la se è una sola disponibile in pronta consegna è dotata di di sospensioni quindi rivista nel nel reparto sospensioni che sono a controllo elettronico e kawasaki lancia quest'anno appunto il sistema di gestione elettronico sky huk denominato sky huk e appunto con l'impianto frenante anche rivisto ereditando praticamente il meglio per quello che il il reparto brembo abbiamo il veicolo demo per cui anche qua potete venire a trovare sono le tre moto che abbiamo disponibili in pronta consegna per quanto riguarda kawasaki poi rinnoviamo ancora la campagna che vede allestire il versi 650 mille del kit e tourer plus incluso nel prezzo per cui moto già chittate per viaggiare quindi con valigie a faretti di profondità e altri accessori appunto utili per per fare del turismo e poi l'operazione 50 assolutamente abbinata anche alla appunto a queste promozioni che kawasaki da noi aderiamo in pieno e abbinandogli poi la nostra operazione 50 per cento e abbiamo ancora anche qua un paio di colori disponibili un paio di unità per quanto riguarda la ninja mille sx anche qua con il kit tourer incluso nel prezzo per cui potete spendere soltanto la metà due anni di manutenzione scontata del 50 per cento e soltanto tra due anni potete poi decidere appunto che cosa che cosa fare della moto e abbiamo raggiunto lo spazio dedicato a mv agusta la produzione per eccellenza italiana e qui ovviamente presentiamo una brutale 800 rr già presentata però rinnovata assolutamente sì tutta la gamma 2021 elisa si rinnova completamente anche se le moto poi in realtà sembrano sempre le stesse perché è proprio questa la filosofia comunque di mv agusta brutale 800 rr parliamo di 140 cavalli per velocità massima che supera 240 chilometri orari quindi con un rapporto peso potenza davvero esagerato la moto è veramente da provare e potete prenotare la vostra prova la gamma 2021 appunto come dicevamo tantissime novità quindi non soltanto la strumentazione tfp led con un bello schermo chiaro colori ma è dotata finalmente di una piattaforma inerziale quindi che gestisce tutti quanti i parametri di controlli degli aiuti elettronici e con abs cornering è una distribuzione completamente rivista e l'operazione 50 per cento su su tutte le mv agusta al quadro noi si fa in tre per cui spendete soltanto la metà per avere tre anni di manutenzione scontata del 50 per cento e diventare subito proprietario a tutti gli effetti della moto abbiamo raggiunto lo spazio dedicato benelli qui siamo davanti una bellissima trk c'è lisa luciano moto concessionario tra tutti gli altri marchi anche di benelli e trk è quella che rappresenta di più il marchio anche questo mese ha tracciato davvero il mercato dimostrandosi come moto più venduta le abbiamo tutte quante pronte consegne quindi tutta la gamma a partire dalla 125 arrivando fino alla 752 su trk x abbiamo la versione su cui si è appoggiata già configurata appunto con un kit touring per viaggiare disponibile con la nostra operazione 50 per cento senza interessi per tutti i mezzi che abbiamo in casa e siamo in casa indian di cui luciano moto è concessionario ufficiale in piemonti liguria e val d'aosta e qui atos presentiamo una bellissima scout bobber 20 bravissime lisa bobber 20 ne abbiamo due disponibili in pronta consegna parliamo di moto euro 5 quindi 2021 questa verde militare opaco bellissima molto particolare è l'altro colore che il nero opaco abbiamo ancora qualche unità 2021 delle scout le piccoline di indian sono andate davvero a ruba quest'anno anche questa acquistabile tutte quante con la nostra operazione 50 per cento quindi anche qua poi valutiamo il vostro usato purché sia in ottime condizioni di qualsiasi segmento quindi se avete voglia di cambiare completamente genere e con un mezzo che vale anche di più della moto che acquistate potete farlo tranquillamente vi riconosciamo la differenza l'operazione 50 per cento su indian dall'ftr in su quindi arrivando poi fino al ai 111 116 e a tre anni senza interessi ci troviamo nel reparto scooter davvero tantissima scelta atos a partire dai cinquantini padiglione dedicato proprio interamente al al mondo scooter quindi tantissimi usati parliamo di 200 pezzi circa di tutte le cilindrate e tutti quanti completamente garantiti te sei sul super soco cx siamo diventati concessionari ufficiali già da un paio di mesi di super soco che rappresenta davvero l'innovazione per quello che è la mobilità elettrica in partnership ufficiale con ducati quindi il marchio proprio legato al blasonatissimo marchio bolognese consumi ridottissimi si arriva fino a superare abbondantemente i 100 chilometri di autonomia con le versioni a doppia batteria e qua godete davvero di un incentivo statale incredibile meno 40 per cento se avete l'usato fino a euro 3 che che vale zero abbinati poi la nostra operazione 50 per cento insomma da approfittarne il mezzo che costa 5000 euro praticamente di listino lo portate via 1500 euro ed è subito vostro davvero consumando pochissimo considera che con 40 centesimi di euro percorre all'incirca 80 chilometri e tu invece sei seduto sul quadro sì certo un quadro qv3 il tre ruote disponibile appunto poi anche in quattro ruote col quattro ruote cuder che 400 di cilindrata anche qua venite di davvero a provare abbiamo anche gli elettrici comunque disponibili demo e tutti quanti acquistabili con la nostra operazione 50 per cento ricordiamo l'indirizzo via circolazione 49 a casa al grasso la statale che da torino va verso saluzzo grazie atos grazie a te un saluto a tutti voi alla prossima puntata ciao